Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetti 23b a 28. In questo brano Gesù disse ai suoi discepoli, chiedete qualsiasi cosa al Padre mio nel mio nome, lui ve la concederà. Fin d'ora non avete ancora chiesto nulla. E da questa parola che ha colpito la nostra meditazione, vediamo come Gesù adesso cerca di farci capire ai suoi discepoli che lui è veramente figlio di Dio e viene dal seno del Padre. E da questa frase Gesù rassicura gli Apostoli che la loro preghiera sarà ascoltata e esaudita. Però quando dice che fin d'ora non mi avete ancora chiesto nulla, si capisce meglio, perché chiedere qualcosa al Padre nel nome suo mentre che lui sta in mezzo a loro. Non c'è bisogno. Esattamente come nel Marco 2,19. Finché lo sposo è con loro non c'è bisogno di digiunare. Dunque siamo più o meno di questa logica. Dunque Gesù è in mezzo a loro e gli Apostoli non potrebbero chiedere nulla al Padre. Ma quando partirà allora potranno chiedere qualcosa nel nome suo. E ogni cosa chiesto o chiesta diciamo, ogni cosa chiesta nel nome del Signore sarà sempre esaudita e ascoltata. Ecco carissimi, quello che vorrei condividere con voi di questa meditazione basandomi su questa frase. Noi siamo abituati ad avere una preghiera di domanda. Spesso quando preghiamo il Signore chiediamo Signore dammi questo, Signore aiutami, Signore quello, Signore quell'altro. È normale, è ovvio perché è il nostro Padre. Ma la domanda è, la nostra preghiera è fatta nel nome di Gesù? Qualcuno mi direbbe, certo preghiamo nel nome di Gesù. Ma che significa chiedere nel nome di Cristo? Non possiamo chiedere nel nome di Cristo se non siamo radicati in Lui. Non possiamo chiedere qualcosa al Padre nel nome di Gesù senza avere la consapevolezza di chi è per noi. Gesù diceva che Lui è la porta, che nessuno può andare al Padre senza permesso di Lui. è impossibile. E la lettera agli ebrei dirà che Gesù è l'unico mediatore tra l'uomo e Dio. Dunque, Gesù è al centro della nostra vita. Allora, la preghiera deve essere fatta nel nome di Cristo. Significa avere fede in Gesù, credere in Lui. Ma spesso la nostra preghiera è un po' più leggera. La nostra preghiera è un po' più personale, individuale, egoista. Allora, in quel senso non possiamo dire che noi chiediamo qualcosa al Padre nel nome di Gesù perché siamo fuori. E questo si dimostra lo scoraggiamento perché una volta che non otteniamo secondo noi, ci scoraggiamo. Siamo delusi. Qualche volta anche abbandoniamo la Chiesa, abbandoniamo la preghiera, abbandoniamo Dio perché secondo noi perché pregare mentre che Dio non ascolta la nostra preghiera? oppure anche perché il Signore ha ascoltato la preghiera di quello e la mia no? Ecco, cioè, avere un ragionamento di genere significa o significherebbe che non siamo radicati in Cristo, che non abbiamo totalmente fede in Cristo, che non ci siamo abbandonati nelle mani del Signore. Dunque, oggi Gesù vorrebbe richiamarci invitandoci a abbandonarci nelle sue mani, credere con fede, credere con certezza, con perseveranza, perché senza di Lui non possiamo fare nulla. Allora, se Gesù dice che finora non abbiamo ancora chiesto nulla, ecco quello che ho spiegato prima, non abbiamo ancora chiesto nulla, perché la nostra preghiera non è fatta secondo la volontà di Dio, cioè non per l'egoismo, non per il bene nostro, ma il bene di tutti. Io ricevo per condividere, perché la nostra preghiera non ha fede, cioè preghiamo senza fede, ecco perché Gesù ti dice che non abbiamo ancora chiesto nulla. Per gli Apostoli, perché Lui è presente, credono in Lui, perché Lui fa i miracoli, ma noi che non abbiamo Cristo fisicamente, ma spiritualmente è sempre in noi. Ma se Lui dice che non abbiamo ancora chiesto nulla a Lui, perché dubitiamo, perché ci manca la fede. Dunque non la consideriamo profondamente. Dalle labbra sì, ma nel cuore no. Sono delle ipotesi, perché non è che tutti si comportano così. Ecco carissimi, allora oggi Gesù ci sta invitando dunque a chiedere qualcosa a Lui con fede, con la consapevolezza che senza di Lui non possiamo fare nulla. La nostra preghiera deve essere fatta con fede, solo così che il Padre esaurirà le nostre domande. Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre. Grazie. Grazie.